ciao giorgio buongiorno e buon inizio settimana oggi il cosmetto piano onorario è il solito per me perché oggi sono a casa e il lavoro riprenderò tra qualche giorno perché stiamo preparando un cantiere nella tua città che ti ha dato gli natali e anche le pasque di conseguenza oggi dopo l'incidente di ieri l'altro giorno finalmente abbiamo messo a posto questa questo microfono questa linea di strigliarmi bene caro giorgio quindi adesso una breve nota io lo stavo dicendo vorrei dire agli amici che ci ascolteranno dopo in differita registrazione che si stanno facendo i passi grandi per mettere su un media adeguato per quello che il mio programma voglio fare io ecco di più vi ho già parlato parecchie volte in questi ultimi anni e siamo lì per il sedio vuole per farlo è stata una cosa abbastanza dura faticosa ma comunque ce la stiamo facendo e io faccio appello a tutti voi perché possiate se volete coinvolgere persone che hanno a cuore una causa e secondo che possono mettere in posizione i loro mezzi per far sì che questo questo media parta in maniera seria con tanta tanta gente che ci segue perché c'è un prestaggio politico di rilievo un vecchio prestaggio di rilievo che adesso non posso nominare chi è che ha che adesso però non è più un politico ma è uno che conta comunque che ha appoggiato questa mia causa allora per cominciare questo qui non si vuole assolutamente per un partito dimenticate che questo è un partito qui si vogliono fare delle cose a partire dai nostri bisogni della nostra esigenza che ci liberano dal sistema oppressivo che c'è proprio subiamo specialmente mondo del lavoro dove la tassazione ormai ha raggiunto vertici insopportabili e bisogna fare un'azione tutti noi insieme che poi vi spiegherò al momento opportuno per raggiungere gli obiettivi che sono primo difendere la nostra famiglia e la nostra vita e la cosa in questo momento era più importante visto l'attacco che ci stanno facendo e visto una guerra in compende qui a poche migliaia di chilometri da noi e sulla quale non si può scherzare non possiamo trascurare questo evento e secondo dovete capire che non che non è il partito che è solo il problema è riunione tra tutti voi che che come si dice che uniti fra voi possiate poi alla fine coordinare voi stessi le vostre migliori forze i vostri migliori soggetti per realizzare dei progetti in loco dove abitate voi delle infrastrutture di pubblica utilità e anche di dare una casa a chi non ce l'ha e tante tante altre cose che ha spazio dal lavoro ai brevetti alla cultura a iniziative locali a studi territori insomma qui si comunicheranno ingegneri architetti cioè sarà un'iniziativa veramente piena di cose da fare chi viene solo per parlare se ne può stare a casa per quanto riguarda adesso non si parla di dare soldi a nessuno quindi ti ringrazio già mario ma non si dà soldi a nessun momento quando ci sarà un comunicato stampa che io poi vi dirò ci dirò nel senso che vi indicherò dove questo pubblicato fatto e solo allora quando la struttura è completa vi indirizzerò dove fare un vostro abbonamento e sarà un abbonamento minimo ma 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 di fatti cioè nel senso che si invieranno presso le vostre sede residenze degli inviati che vanno a contrarvevo e la vostra comunità per cominciare da voi dalle piccole cose che mi servono a fare delle cose insieme e realizzare appunto i propri bisogni tutto qua e poi dopo il resto poi ne vediamo per quanto riguarda il resto questo paese ormai sembra sempre più perso in germania c'è stata questa riscossa rosso bruna così dice il nostro nera rosso bruna come osano dire in germania dove guarda caso questo discorso su bruno che hanno giorgia arriva dalla germania dell'estero ex guarda caso se tu hai visto le uniforme del dolce box armé cioè dall'armata popolare tedesca cioè di maniere e anche del metti e la fotocopia della verba italiana uguale invece quelli di qua all'occidente gli hanno assoluto castrati e gli hanno messo un elmetto schifoso americano nel metto di merda e un riforme che erano a un cazzo a che fare con la tradizione militare germanica invece quelli dell'est no ed erano sotto i russi ecco e io vorrei capire come mai se si è fatta questa distinzione che ero giorgio quindi il fatto che le lender della ex ddr cioè la doce democratici repubblici appunto cioè germania repubblica democratica tedesca appunto ci sia sviluppato questa corrente nazionalista se lo vogliamo anche nazionsocialista perché poi il suo diciamo così capo non fa mistero non è che si nasconde dietro un dito anzi non manifesta proprio il suo pensiero certo è ovvio una germania è dove il becco di Hitler puoi passare qua è perfettamente spiegabile in termini di geopolitica ricordiamocelo bene sì sì prego non è un'improvvisazione no no infatti credo credo allora che mi dè le parole certo come no subito va bene allora cari amici noi dobbiamo abbiamo sempre sostenuto la posizione degli studi geopolitici perché sono gli unici realistici e e allora dobbiamo parlare di una scritto che non a caso è ignorato in italia di un grandissimo scrittore che è stato il polito nievo il polito nievo viene ricordato come scrittore del risorgimento per un suo grande libro che fa parte dei classici della lettura risorgimentale e che viene citato sempre nei licei nella storia della letteratura si parla di questo suo libro memorie di un italiano poi cambiato memoria di un otto a genario ma il titolo originale era memoria di un italiano e non a caso qual è stato il destino di polito nievo uomo intelligentissimo e soprattutto capace di capire la storia attraverso la storia attraverso la geopolitica è stato un destino tipicamente italiano e non credo di svegliare pensando che la scomparsa di polito nievo in uno stranissimo affondamento della nave sulla quale sulla quale lui stava ritornando in piemonte nel genovese ed in piemonte la sua scomparsa è stata la scomparsa di un uomo che avrebbe potuto documentare stiamo attenti stiamo attenti ai alle giravolte della politica italiana avrebbe potuto documentare con i documenti in suo possesso perché lui era l'amministratore della spedizione dei mille avrebbe potuto documentare in maniera limpida l'onestà del comportamento dei mille laddove era interesse dei nemici insinuare tante cose come è tipico del nostro paese dove l'insinuazione fa parte del gioco politico come ci illustra perfettamente Machiavelli e adesso leggeremo alcune previsioni scritte da Ippolito Nievo che riguardano esattamente la geopolitica di oggi eccolo qua storia filosofica dei secoli futuri qui dice storia filosofica perché storia filosofica perché ovviamente non può essere altro che espressione di un pensiero se si deve parlare del futuro si deve dire che è un pensiero non si può fare delle previsioni come fanno i preti basati sulle profezie della madonna ma prima voglio leggere alcune considerazioni perché fanno parte tutte dello stesso discorso questo aureo libretto in cui si citano alcune cose scritte nel 1988 da William Borough sogno americano volgarizzare e falsificare finché le bugie nude e crude non vengono alla luce volgarizzazione falsificazione compromesso conformità assimilazione sottomissione ignoranza ipocrisia brutalità ed elite questa è la diagnosi di chi comanda degli stati uniti come ci ricorda zack della roccia sono tutti sogni americani chiaro ed ora veniamo ad un'altra considerazione che voglio far vedere agli amici quando si parla di unione europea si parla dei precursori e noi abbiamo qui un libro molto importante molto importante perché è onesto i precursori dell'europeismo bene bene tra cui un rumeno di cui non si parla mai ma questi ma questi sono i precursori tra questi c'è otto di asburgo ah ecco allora e qui in questo libro si dice in maniera molto chiara che otto di asburgo che era ovviamente l'erede degli imperi centrali aveva pensato l'europa come l'unione europea come una espressione degli imperi centrali ma infatti tanto è vero che poi gli austriaci l'avevano eletto era il parlamento europeo e quant'altro questo per dire che il giochetto attenzione il giochetto o ha delle ragioni geopolitiche o il giochetto funziona come una trottola capito le varie pulsioni pulsioni che portano a delle conclusioni di carattere politico che sono poi prevalentemente geopolitico si esprimono anche col voto della germania dell'ex est germania sovietizzata o apparentemente sovietizzata oppure al contrario nazionalista in quanto ex sovietizzata e ricordiamoci che in quel triste periodo che va dalla fine secondo conflitto mondiale fino a circa il 1990 la germania dell'est è stata l'unica entità tedesca che ha funzionato e ha operato a livello internazionale sia in termini militari sia in termini di spionaggio allora è chiaro che la futura saldatura attenti la futura saldatura tra la germania avviene per il tramite della germania con la russia avviene per il tramite della germania dell'est è la destra della germania dell'est che farà uno stretto costituirà uno stretto ponte con la russia di putine chiaro? sì ci ho detto a illustrazione di come le nostre diagnosi sia nei fatti basate su fatti concreti e non su fantasticherie vi leggo appunto alcune pagine di questa storia scritta da Ippolito Nievo ricordiamoci che Ippolito Nievo è morto nel 1860 durante il tragetto Palermo-Napoli quindi è tutta una previsione la sua è una vera previsione e veniamo al suo discorso questo è lo scritto di Ippolito Nievo già da lungo tempo le passioni socialiste e il fermento san simoniano bollivano sotto i sonniferi cipressi della patria di Arminio la patria di Arminio bisogna sapere chi è perché noi dovremmo sapere che Arminio fu esaltato dai germani perché vinse le legioni mandate da Augusto nella selva di Teutoburgo se non vado errato ma attenzione chi era Arminio? lo sappiamo Arminio era un ex milite romano di origine germanica pertanto se ha potuto vincere contro Var Var rendimi le mie legioni è il grido che viene attribuito a Cesare Augusto Arminio Arminio ha vinto no non era Cesare Augusto che disse questa cosa è Augusto Augusto Ottaviano era all'epoca di Ottaviano la sconfitta è avvenuta all'epoca di Ottaviano Var rendimi le mie legioni all'epoca Var la moglie di Arminio era a Roma con un figlio hai capito beh ricordiamoci di queste cose la storia bisogna conoscere al dettaglio comunque ritorniamo a noi eccitate dalla viltà dei governanti che non si opponevano per nulla al predominio russo e stuzzicate dalla stolida castroneria dei signori crociati quelle passioni si scatenarono ed eserciti di proletari tedeschi briachi di birra di vino e di fanatismo scesero dalle Alpi e dal Reno qui si possiamo intravedere le spedizioni imperiali che si avvalevano dei mercenari lansichenecchi già prevalentemente venivano dai cantoni svizzeri prevalentemente venivano dai cantoni svizzeri ricordiamoci e lansichenecchi si trattarendosi a Pavia c'è fu una battaglia qui in questi svizzeri si prese con valore e il governo svizzero ha chiesto a quello italiano di dare quel pezzo di terra ma come noi abbiamo il nostro saccario era la mente il nostro saccario era la mente da noi per comunicare questa loro storia e purtroppo il governo italiano gliel'ha negato quando noi abbiamo l'enclave dei campioni d'Italia in Ruiz sarebbe dato un gesto bello da proprio italiano ma purtroppo sai diciamo stare 20 anni durò questo nuovo diluvio durante i quali nulla di quello che era al mondo rimase vivo ed intatto la rivoluzione che un secolo prima era venuta in Francia non era stata che un piccolo e scolorito proemio di questa dicesi che un poeta tedesco un certo Aine l'avesse profetizzata e che per questo ci morisse esiliato dalla sua patria verso il 1920 ricordiamoci che Ippolito Nievo scrisse queste opere attorno al 1850 cioè 70 anni prima due potenze troviamo colossali in Europa la Germania e la Russia attenzione eh nel 1920 troviamo due grandi potenze vero la Germania e la Russia cavoli che previsioni che fece ero con 70 anni d'anticipo la repubblicana e la dispotica l'una a fronte dell'altra l'una a fronte dell'altra ricordiamoci che nel 1920 ci fu la guerra degli imperi centrali contro la Russia e anche contro l'Occidente ma gli imperi centrali persero la guerra perché furono costretti a combattere su due fronti la stessa cosa è avvenuta negli anni 40 certo la Germania è caduta la stessa trappola la repubblicana e la dispotica l'una a fronte dell'altra la Francia, la Spagna e l'Italia vanno seguitando malvolentieri le pedate di quella l'ultima soprattutto a cui il papato per quanto mediatizzato è ridotto al puro sacerdozio dà sempre molti fastidi una previsione più chiara di così cosa vogliamo dire direi proprio di una chiarezza esemplare questo grande impolito niero mamma mia come aveva già analizzato tutto questo uomo qua ma come è facile certo impolito niero era un personaggio geniale però insomma per vedere le cose sulla base dei dati di fatto esistenti all'epoca certo l'Inghilterra mercanteggia muta e miope come un secolo prima l'Olanda l'Inghilterra mercanteggia è vero l'America applaude non so se più alla rovina industriale o ai baccanali democratici dell'antica Europa baccanali democratici richiama capito un grande scrittore e grande e grande rivoluzionario tanto da aver partecipato alla spedizione dei Mille in questo torno fu ancora un buona parte che risollevando e riorganizzando in Francia il potere militare vero ruppe quel solitario e pericoloso antagonismo dei due colossi e menando in campo una terza potenza rese possibile il progetto di una lega europea lega europea intendendo ovviamente quello che si chiama unione europea l'importanza fondamentale della Francia è scritta qui interpretata allora ovviamente da Napoleone terzo ma era comprensibile ma per arrivare a ciò bisognava molti anni ancora e più di tutto una rivoluzione nella Russia una rivoluzione nella Russia una rivoluzione nella Russia eh? questa rivoluzione avvenne nel 1950 e smembrando il corpo dell'impero sterminato e cacciando gli ultimi rimasugli dei turchi in Arabia è vero sono stati gli inglesi però che hanno cacciato gli ultimi rimasugli dei turchi in Arabia ma è avvenuto di origine nell'Europa orientale alla ricostruzione dell'impero bizantino è quello che sta avvenendo adesso è quello che sta avvenendo adesso sotto la regia preveggente di chi comanda in Turchia alla ricostruzione dell'impero bizantino del regno di Polonia e dell'impero russo propriamente detto il quale possedeva nel centro dell'Asia la confederazione asiatico persiana come nel periodo anteriore l'Inghilterra aveva posseduto le Indie oh hai capito? beh si, capito quali sono le linee geopolitiche di oggi? sono queste, c'è una piccola differenza che l'Inghilterra continua a operare attraverso l'India e l'India si muove per conto proprio per quanto riguarda l'influenza sull'oceano Pacifico e per quanto riguarda il mare dell'Indonesia però le linee di fondo sono queste allora dietro invito della Francia convennero in Varsavia convennero in Varsavia attenzione alla Polonia attenzione alla Polonia rappresentanti dei diversi popoli europei per venire a una federazione o questo è stato scritto, lo ripeto, nel 1854 e si annoverarono dodici stati dodici stati papero russo e bizantino regno d'Inghilterra, di Polonia, d'Italia, d'Irlanda, di Scandinavia e di Spagna repubbliche francese, germanica, svizzera, danubiana la federazione fu preceduta da un trottato il quale sanciva a garanzia dei popoli la tripartizione della Russia capito? si, si la premessa la premessa è la tripartizione della Russia ecco perché la Russia è sotto minaccia ecco perché la Russia reagisce è lei che reagisce ovviamente non è lei che attacca perché la previsione è del 1350 di una persona che pensava in termini geopolitici e capiva che il nemico geopolitico di certe impostazioni ideologico politiche che riguardano l'Europa era sistematicamente la Russia però come abbiamo già più volte previsto la faccenda è finita è finita col voto nella Germania dell'Est è finita tutto la separazione dell'Inghiltella dall'Irlanda l'unificazione delle due penisole italiana e iberica potrebbe essere prevedibile la cessione del poter temporale del Papa questo è importantissimo ciaspita ma ovviamente è del tutto formale perché il potere temporale del Papa il potere temporale del Papa con l'ultimo conflitto si è potenziato il papato era isolato rispetto alla politica e alla geopolitica italiana con la sconfitta del nazionalismo italiano il papato ha preso in mano il quadro generale e il controllo totale dell'Italia come dimostrano le figure dei personaggi che si avvicendano alla televisione a dire grandi imbecilità attenzione l'indipendenza della nuova repubblica cantonale danubiana comprendente i maggiari, i servi, i dalmati e i bulgari e i romeni è verissimo la repubblica danubiana questa è e la geopolitica resta sempre la stessa sono loro se si unissero sarebbe meglio per tutti poi finalmente l'annullamento dell'Austria e della Prussia e la pace universale basata sopra un codice internazionale ed una dieta europea ma questa è una cosa da non credere un codice internazionale la globalizzazione questo è il codice internazionale è la globalizzazione e la dieta europea sedente di 3 in 3 anni a Varsavia a D'Amburgo a Marsiglia e a Venezia Venezia è bellissima Venezia resta sempre una delle capitali reali dell'Europa assolutamente sì attenzione questo atto fu giurato nel 1960 e nel 61 si ultimava in America la federazione del continente settentrionale con la gran penisola meridionale e spagnola questa federazione non è stata formalizzata ma è vero che gli Stati Uniti del Nord controllano sistematicamente tutti gli Stati Uniti o meno Uniti dell'America del Sud così fin da quel tempo meno la parte Barbara e la Cina due gran leghe di popoli civili procedevano lacrimente al perfezionamento della società io dico che tutto ciò è di una chiarezza veramente eccezionale direi leggo un altro pezzettino e chiudiamo il Papa di Roma che per non essere più re del Lazio ed esarca delle Romagne non era meno Papa di prima non poteva vedere di buon occhio con tali innovazioni e fece di tutto per sapere a che tendevano quelle strane teorie oh nel 1850 parca miseria parca miseria come avesse previsto la nascita del pensiero scientifico dell'assorbimento nella società del pensiero scientifico della nascita del pensiero post scientifico che è quello che pervade i pensatori di oggi per essere mescolati in quelle novità moltissime moltissimi protestanti sismatici ed ebrei si lusingava talvolta di un felice rivolgimento in favore dell'ortodossia ma il Papa della buona gente rispose alle lusinghe del Papa di Roma con un invito a pranzo e le trattative rimasero lì attenzione che è molto importante questa figura del Papa della buona gente allora il russo quell'altro Papa del nord scusa un secondo prego Giorgio pronto? no 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 sto facendo un video adesso rimandiamo a domani no 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 allora il russo quell'altro Papa del nord cominciò a esserne adombrato lui estringi di qua e soffia di là per opera dei papi e per cagione del terzo soprastava alla Germania una bruttissima guerra bella bella una cosa da non credere sicuramente a tutti i fatti non avrebbero voluto che il mondo si innamorasse di una morale così chiara facile e allegra dove avrebbero mai più trovato loro cosacchi i loro gesuiti la paura era legittima secondo lui i cosacchi sarebbero i gesuiti della Russia ah beh ma guarda che è una cosa il Papa della buona gente Giovanni Maier d'ottima memoria offerse una transazione egli si toglieva due anni di tempo a uscire dall'Europa purché gli promettessero di non guastare i suoi disegni in Africa e in Australia detto fatto egli mandò sui confini della Siria alcune migliaia dei suoi devoti con un carico di magliuoli di vite del Reno e di champagne e poiché ebbe notizia che i terreni fruttificavano largamente e che le piante avevano prosperato si imbarcò con un'allegra moltitudine di seguaci e prese stanza nella sua nuova patria oh ma come dobbiamo dirlo certo certo e prese stanza nella sua nuova patria ovvero sia Israele i gesuiti sogghignavano guardando alla poca solidità di queste missioni intraprese senza il vero zelo nei paesi arabi e dei turcomanni giovanni giovanni maier rideva e canterellava giurando che il vin del Reno spremuto spremuto sulle rive del lago d'aralla era migliore dell'originale però le tribù indigine che pagavano all'intorno si invogliarono assai del bel metodo di vivere dei nuovi arrivati lavorare discretamente camparsela tranquilli e allegri e far festa dei tre giorni far festa dei tre giorni l'uno era meglio che faticare notte e giorno per svaliggiare una carovana ogni due anni oh eh è così purtroppo meglio che svaliggiare una carovana ogni due anni capito? qual è la logica? ah dio mio mio a dirla breve senza tante prediche si convertirono ma vedi un po' non è detto se si battezzassero ma si sa per certo che fissarono la loro dimora capito? i nomadi che cominciarono a coltivare la terra a parlare le lingue occidentali e a farsi civilizzabili cresceva l'immigrazione dall'Europa crescevano le conversioni degli asiatici e la nuova federazione dell'Asia centrale diventava un'imponente novità il dispotismo russo restò scornato almeno da quelle parti intanto l'Europa abbandonata dai suoi migliori cittadini e minata nuovamente dalle mene dispotiche e religiose soggiaceva a nuove convulsioni l'orgoglio e la scioperataggine penetrarono a poco a poco nelle plebi rustiche insieme con quella vernice di educazione che la varizia dei signori non si aveva dato briga di approfondire e consolidare questa è una cosa incredibile la spiegazione è l'ignoranza delle masse voluta dall'avarizia dei signori tutto scritto fu un momento di crisi così vitale che se non era il naturale buonsenso delle genti latine il rigurgito dell'Asia dei buoni elementi stai latine trent'anni prima l'umanità era bella e andata concludiamo con un altro pezzo perché è vicino a noi nell'anno duemila e trenta ci siamo vicini e ormai manca sei anni anzi fra poi manca cinque attento attento nell'anno duemila e trenta la federazione asiatica comprendeva la maggior parte di quel continente dalla Siria alle Indie e dalla Cina la maggior varietà di stirpi e di lingue di razze vi si incontravano per l'eguale ricchezza di agricoltura di industria e di scienza pratica la strada ferrata corse quell'anno la prima volta da Stoccolma a Pechino e da Pietroburgo a Cacolta però porca miseria ragazzi beh ragazzi la sua previsione è incredibile 1850 la strada ferrata ti giuro questo libro di Polito Nievo non ne sapevo niente ti ringrazio questo è uno scoop eccezionale che ci fai è quello che vogliono fare adesso e le pressioni degli Stati Uniti contro la Russia sono divute proprio a questo certo concludo allora si pensò ad un congresso di tutti i popoli del mondo cioè delle tre gran federazioni l'europea, l'americana e l'asiatica quel congresso si raccolse a Costantinopoli sotto la presidenza di Adolf Kuhl guarda è una cosa da non credere è stato scritto nel 1854 sotto la presidenza di Adolf scusa ripetiti si, si 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 chiama pure Adolf ma è una cosa credere è trattato a tutte le questioni che interessavano il bene dell'umanità Adolf Kuhl Attento, prima di ogni altro si discusse quella della scienza e il presidente stesso sorto con una lunga orazione a provare che la moltitudine e malvagità dei libri aveva prodotto infine allora la diversità delle classi e le più perniciose rivoluzioni propose la distruzione universale di questi libri dopodiché una società di dotti ne avrebbe ricavato un indice enciclopedico, una società di dotti che simboleggia la globalizzazione. Il che fu fatto a gran vantaggio degli uomini e poi dopo molte altre deliberazioni di senno altissimo il congresso si sciolce proclamando Adolfo Curr gran patriarca del mondo e benefattore del genere umano. Questi contava allora 80 anni di età, morì tre anni dopo e gli successe per libera elezione Samuele Dal Negro di Pisa, economista celebratissimo. Il caso, ecco perché si parla sempre in maniera molto appropriata del caso, ovvero sia l'attività umana individuale da normale fu preceduto ai periodi storici della vecchia società. La nuova riconosce il suo sviluppo crescente e regolare dall'industria, ovvero sia dall'attività umana collettiva e progredente. Noi tocchiamo ora ad una rivoluzione scientifica che operò nel corsozio umano. Il maggior cambiamento che si è mai operato vero e dopo un'oscillazione spaventosa di alcuni lustri lo fermò stabilmente sulle basi incrollabili su cui esso stesso riposa. L'introduzione delle lingue articolate, la formulazione delle famiglie, il trovato della navigazione, l'agricoltura, lo stabilimento delle città, la codificazione morale e religiosa, il dogma dell'iguaglianza umana, l'invenzione della polvere della stampa, il trionfo della libertà di coscienza, l'applicazione del vapore e dell'elettrico. No, 1850, l'assetto definitivo della nazionalità, la concordia democratica universale e la sanzione sociale del diritto di vivere bene aveva condotto l'umanità di metamorfosi in metamorfosi a non riconoscerci più nella forma originale. Ma la rivoluzione di cui parliamo ora sorpassa per il miracolo della causa e per grandiosità degli effetti qualunque altra opera abbia mai addescato l'immaginazione umana. Tutti salvedano, come io alluda, all'invenzione degli omuncoli, detti anche uomini di seconda mano o esseri ausiliari. La costoro creazione, non anteriore al nostro secolo di 160 anni, si perde già nelle incertezze e nell'oscurità della favola. Ma le migliori autorità s'accordano ad ascriverne il merito a Jonathan Gill, meccanico e poeta di Liverpool. Ecco al dire dei cronisti comandò la cosa. Capito? Liverpool, omuncoli, e qui allude ovviamente all'intelligenza artificiale. Penso che qui non si tratta soltanto di un profeta, ma si tratta di una persona che sapeva ragionare e aveva davanti agli occhi un quadro, non politico ma geopolitico. Sono d'accordo. Ma lui, secondo me, sapeva anche delle cose che probabilmente non gli doveva sapere e non doveva dirle allora. Ecco perché l'ha fatto fuori. Era necessario farlo fuori. Eh sì. Lui è la cassa dei soldi, capito? 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 Beh sì sì. Ma io adesso qua mi dicono che la mia voce fa da eco. Infatti io sento qualcosa. Non so perché. Non so cosa fare questo per mettere a posto questo eco. Se qualcuno potesse suggerire lo mettere a posto. Adesso lo metto a posto. Comunque questo libro che tu ci hai letto stamattina di Italo Svevo appunto, di Politonievo, scusami, di Politonievo scusami tanto, credo che sia un libro importantissimo che, non so, per cui parlando di questo Adolfo Cutti, pensa un po', cioè secondo me questo qua avete appena visto qualcosa o no? Cioè no, tu cosa ne pensi? No, dico scusa, ma hai visto cosa hai letto? Non era solo informato, ma la tua ha preso una roba di 70 anni dopo. Eh certo. E come faceva sapere? Intuizione di un uomo intelligente. Eh ma ci fa anche il nome. Super intelligente. No, dico, ti fa anche il nome perché Adolfo, in effetti si chiamava Adolfo Goli. Che poi era Schickgruber. Ma la ferrovia che è stata progettata adesso? Eh. La ferrovia della via della seta che è stata progettata in questi anni. Esattamente. 150 anni dopo. Esattamente. No, vedi più, 170 anni dopo direi. Siamo nel 1850. Le ferrovie in Italia ancora non c'erano. Certo, 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 certo. No, dico, è incredibile quello che, anche se nel 1850, o meglio un anno prima ci fu la prima tratta Napoli Portici. Sì, va bene. La prima. Poi dopo. Era un sostituto delle carrozze a cavalli. Andavano. Andavano. E quindi in Air Far West, sappiamo, no? Anche lì dopo... Anche lì le strade ferrate cosiddette. E con tutte le stragi che hanno comportato... Le stragi dei Pelle Rosse. Le stragi dei Pelle Rosse. E la trasformazione dei titolari di queste ferrovie nelle dinastie dei grandi finanzieri. Quindi le comandano oggi. Esatto. 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 Va bene Giorgio. Allora io ti ringrazio. Iniziamo gli amici anche se abbiamo trasmesso in un orario insolito perché siamo nel prodigio la sera. Ma adesso c'è ancora un po' di giorni libri, poi dopo non posso più farli ovviamente. Comunque, mi ringrazio. Adesso metterò a posto questo eco che anch'io sento, ma non so... Tu mi senti Giorgio? Mi senti con l'eco? Sì. Dimmi. Mi senti bene tu? Sì, benissimo. Perfetto. Vabbè, no, da casa c'è un eco, ma io l'ho sento anch'io. Vabbè, me lo metterò a posto sicuro. Bene. Bene. Vi ringrazio e se avete appunto qualcuno a chiamare per dare sostegno alla televisione che si sta per realizzare, mi scrivete, vi lascerò il mio indirizzo, mi scrivete, ci contattiamo, poi mi metterò in contatto direttamente con Torino dove lì si sta organizzando il tutto. Intanto vi ringrazio e vi auguro una buongiorno a tutti e a presto. Ciao a tutti.